Nel pomeriggio on'è di fonte la veglia di preghiera per la 22enne travolte uccisa dal coetaneo ubriaco dolore ma anche rabbia la mamma e la sorella allontanano il fidanzato che l'ha lasciata andare via quella notte. Prima lo schianto e poi la fuga lasciando senza soccorso i feriti due casi simili in poche ore a Castelfranco una ventenne si presenta in caserma dai carabinieri denunciata. In visita in tribunale a Treviso il neoministro alla giustizia Nordio apre alla proposta del sindaco Conte di rivedere il reato di abuso d'ufficio per garantire l'operatività dei comuni lo chiedono anche i sindaci di sinistra dice Nordio e il ministro incontra il mondo della giustizia trevigiano e rassicura la priorità andrà immediatamente alla copertura delle carenze di organico. Hanno tentato di rapinare un imprenditore dopo averli forato la ruota della macchina l'uomo però si è accorto e ha allertato i carabinieri due giovani padovani in manette. Razzie continue nella marca non solo Raid negli appartamenti nel Mirino anche la villa di Goppiona a Treviso i banditi sono arrivati in barca dal Sile per furti in corso il peggio non è ancora arrivato. Aiutatemi a individuarlo ai nostri microfoni l'appello di un 29enne di Mansuet che la notte di Halloween è stato aggredito a puni senza motivo da uno sconosciuto. Ecosistema Urbano 2022 pubblicata l'attesa classifica di Lega Ambiente e Sole 24 ore Treviso è sesta in Italia. Bentrovati buonasera telespettatrici telespettatori di Antenna tra i tanti i fatti in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali prima però come ogni lunedì sera il sondaggio di Ring vi chiediamo migranti sbarcare solo donne bambini e fragili se sì il numero è quello verde 0422 1626 691 se no il numero quello in rosso 0422 1626 690. Come sapete sullo sfondo c'è il braccio di ferro tra il governo meloni e le navi delle organizzazioni non governative un braccio di ferro che è anche politico e istituzionale con l'unione europea. L'esito di questo sondaggio come ogni lunedì sera questa sera a partire dalle 21 e 15 a Ring in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. Dicevamo la cronaca tanti i fatti su tutti le lacrime e la rabbia nel giorno dell'ultimo saluto a Miriam Ciovanu la 22enne travolta uccisa la notte di Halloween dall'auto di un coetaneo raccusato di omicidio stradale aggravato. Quella notte Miriam travolta in strada usciva dalla casa del fidanzato. Questo il racconto della giornata con le immagini del nostro Nicola Marcato. Le lacrime, la disperazione e poi alla fine di una lunga giornata la rabbia. È la madre di Miriam Ciovanu insieme alla sorella nel giorno dell'addio che vinta dal dolore si scaglia contro il fidanzato Tommaso Dalbello. Non dovevi nemmeno presentarti gli dice. Sul sagrato della chiesa ci sono anche i carabinieri. L'ultima notte della sua vita Miriam l'aveva passata con lui. Una discussione all'alba e poi lei che se ne va e nel buio viene centrata dall'auto di Alessandro Giovanardi, suo coetaneo che a folle velocità stava tornando a casa dopo una serata trovato poi positivo ad alcol e droga. Il feretro arriva al suono delle campane, una bara chiara con fiori freschi di ogni colore e margherite. Ad attenderlo la famiglia, tutti, mamma Adriana, papà Giovanni, Charlie, la sorella Enrico, l'ex fidanzato sono mano nella mano e si stringeranno anche in chiesa una mano nell'altra, forti in un unico abbraccio. Stiamo qui per la forza dell'amore, per la forza della speranza, nella certezza di questo saluto che è una rivederci. E allora con tutto l'amore che abbiamo, con tutta la speranza che nutriamo, con tutta la fede che ci è possibile avere in momenti come questi, salutiamo Miriam. La vita è troppo breve per farci travolgere dall'odio e dal rancore, amiamoci gli uni con gli altri, il messaggio di Don Gabriele. In chiesa anche i tre sindaci uniti da questa tragedia, Pieve del Grappa, Fonte e San Zerone degli Azzelini. Bella dei tuoi occhi intensi e profondi, bella come i gigi del canto che il Vangelo ricorda, bella del tuo nome. Uniti nel dolore fino alla fine, ora servirà tempo per ricostruire e servirà farlo solo insieme. Prima lo schianto e poi la fuga, lasciando senza soccorso i feriti. Due casi molto simili nell'arco di 12 ore nella zona di Castelfranco, Veneto. In serata una ventenne si è presentata in caserma dai carabinieri. Stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata con il fidanzato Alison, 20 anni, a bordo della sua auto, acquistata solo una settimana fa, imboccato il sottopasso di Salvatron dall'improvviso. Dalla direzione opposta un'auto ha iniziato a invadere la sua corsia fino a colpirla violentemente sulla fiancata. Correva e dopo che mi è venuta addosso ha continuato proprio la sua corsa ad alta velocità. Sotto shock e ferita Alison è stata soccorsa da un'automobilista di passaggio. Grazie a lui è riuscita a chiamare i soccorsi ai familiari. La giovane è stata portata in ospedale per essere medicata. Mi sono fatta male alla schiena e ho una prognosi di otto giorni per tenere il collare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. In mattinata si è presentata l'automobilista. Si tratta di una coetanea, appena 20 anni, che secondo il suo racconto non si sarebbe resa conto di aver provocato danni. La giovane è stata segnalata all'autorità giudiziaria. Nemmeno 12 ore dopo un altro incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, in zona Borgo Padova, sempre a Castelfranco, in prossimità di una rotonda, un giovane studente in sella alla sua moto è stato urtato da un frugone che poi è fuggito a fermarsi per aiutare il ragazzo. un'automobilista. Le indagini della polizia locale. Ragazzi, era davanti a me caduto e il frugone che è scappato e basta. Questa è la cronaca della nostra Daniela Sizia. C'è la cronaca, poi c'è la giustizia. Oggi è stata una giornata molto importante per la giustizia trevigiana, per il mondo forense, per la magistratura. Visita istituzionale in tribunale da parte del neoministro Carlo Nordio, che si è soffermato soprattutto sulla carenza di organico, ma non solo, ha parlato di immigrazione e abuso d'ufficio. In questo ambito, gli uffici del Veneto, Venezia e soprattutto Trelisa, sono in una situazione di sofferenza intollerabile. So perfettamente quale sia la situazione dell'organico, della carenza dell'organico e della carenza di chi, pur appartenendo all'organico, è quella che si chiama una forza assente. Intervenire subito sulla carenza di personale, soprattutto amministrativo, questa è la priorità del guarda sigilli Carlo Nordio, in visita istituzionale nei tribunali di Venezia e Treviso, realtà dove ha trascorso decenni di vita professionale e dove, dice, la politica è spesso mancata. Diverse le ipotesi sul tavolo per recuperare organico. Non ultimo, attraverso, questo potrebbe porre dei problemi di ordine giuridico, ma risolvibili, un reclutamento regionale, perché molti posti vengono scoperti perché delle persone provenienti da ragioni lontane, per ottimi motivi familiari, però appena arrivate qui chiedono il trasferimento. E la situazione di Treviso è dannatamente sofferente in questo. Ma un conto è l'emergenza personale, un altro la riforma dei codici di procedura che richiederà più tempo anche l'intera legislatura e poi la famosa sburocratizzazione con Nordio che racconta un episodio personale. Io ero a Roma, è arrivata a casa mia una cartolina verde, tribunale di Treviso. Naturalmente mia moglie si è preoccupata perché una cartolina verde cosa significa? Sapete, siamo tra tecnici, quindi. Una cartolina dalla Corte d'Appello solo per confermare l'avvenuta elezione alla Camera in un florilegio di articoli e commi con tutto il suo carico di costi e ore e lavoro di funzionari. Questo è l'indizio numero uno di un apparato burocratico ottocentesco che va smantellato. Non dico che vada riformato, va smantellato. Ci sono poi i temi dell'attualità. A Treviso Nordio viene accolto anche dal sindaco Mario Conte che in occasione delle celebrazioni del 4 novembre aveva chiesto proprio al neoministro di rivedere la disciplina dell'areato di abuso d'ufficio, uno spettro per molti sindaci e funzionari alle prese con l'operatività quotidiana. La modifica radicale del reato di abuso d'ufficio è richiesta dai sindaci e soprattutto di sinistra e quindi penso che daremo loro ascolto. Inevitabile guardare poi a quanto succede nel Mediterraneo con il braccio di ferro tra governo e navi delle ONG. Il trattato di Dublino è chiarissimo. La gestione dei migranti deve essere fatta dallo stato di primo accesso e se una nave straniera in acqua internazionale accoglie dei migranti lo stato di primo accesso è lo stato di bandiera di quella nave. Insomma Nordio è tornato di fatto a casa in un'altra veste, in una veste istituzionale carenza di personale e quindi ma non solo anche problemi logistici e strutturali da parte della magistratura trevigiana però nei confronti proprio di Nordio c'è parecchia fiducia. Il palazzo di giustizia sarebbe quasi da rifare e comunque è da rivedere, da ristrutturare, ci sono gli impianti da rifare, la pavimentazione, i tetti, è un colabrodo questo palazzo. Il Cahier de Doleance è corposo, i mali della giustizia trevigiani noti con risvolti anche inediti. Ci sono questioni legate, è vero, agli organici ma anche questioni proprio di tipo logistico, pratico. Abbiamo da decenni il problema degli archivi che sono sovraccarichi di materiali, non sappiamo più dove mettere gli atti, abbiamo dovuto ricorrere ultimamente all'aiuto del comandante di una caserma che ci ha messo a disposizione due stanze. Tante le criticità ma altrettanto grandi sono le aspettative nei confronti dell'ex magistrato Nordio che nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Treviso viene accolto da autorità mondo forense, forze dell'ordine. È una persona giusta per la sua esperienza perché conosce i problemi dall'interno, è uno spirito libero e critico, quindi è una persona che può fare qualcosa in questo momento, la persona al posto giusto, non so fino a che punto sia il momento giusto perché mi rendo conto che a livello nazionale di grandi risorse economiche da investire non ce ne sono in questo momento, però ci possono fare tante altre cose anche a costo zero o quasi zero. Se non ci riesce lui che è trevigiano, che è un ex magistrato, che conosce il Veneto meglio di me e sa quali sono i problemi che affliggono il Veneto e il Tribunale di Treviso, io credo che non possa farcela nessun altro. Comunque noi non è che ci tiriamo indietro, noi continuiamo imperterriti per la nostra strada, continuiamo a fare il nostro dovere. Intanto dai sindacati di Polizia Penitenziaria, di CGL, CISL e OSAP parte un appello proprio a Nordio affinché visiti anche le carceri veneti e soprattutto anche il carcere di Santa Bona a Treviso. Denunciamo la mancanza di revisione di una dotazione organica, scrivono in una nota, poiché l'attuale che risale al 2017 risulta inadeguata. Il personale infatti, oltre a garantire la sicurezza negli istituti, è chiamato per sopperire ad altre scoperture ad altri compiti come ordine pubblico, soccorso pubblico e attività investigative o di scorta. In particolare, dicono i sindacati, la scorta stessa del Ministro Nordio proviene dal carcere di Treviso. Chiediamo pertanto un incontro urgente con lui per affrontare la situazione. E noi ritorniamo alla cronaca e ritorniamo a Castelfranco per il tentativo di rapina nei confronti di un imprenditore. Lo avevano preso di mira, forse ad attirare l'attenzione dei due malviventi, all'interno dell'abitacolo un borsello di marca pregiata contenente la somma di 500 euro circa in contante e due tessere Bancomat. La vittima, un imprenditore cinese residente nel Trevigiano, aveva parcheggiato in zona Borgo Padova a Castelfranco per sbrigare alcune incombenze di lavoro. I due, 29 e 22 anni residenti a Padova, ne hanno approfittato per forare uno degli pneumatici dell'auto. Ma non sono passati inosservati. L'imprenditore, dalla vetrina di un negozio vicino, si è accorto dei movimenti sospetti intorno alla sua vettura. Uno dei due giovani, dopo essersi chinato sulla ruota, è salito frettolosamente a bordo di una Mercedes classe A nera alla guida della quale si trovava un secondo soggetto. Insospettito, ma ancora lontano da quello che stava per rischiare, l'uomo è tornato alla sua auto e poi ha messo in moto. Ma nemmeno dopo un chilometro si è accorto che lo pneumatico anteriore destro era completamente sgonfio. È stato quindi costretto a fermarsi lungo via Foscolo a bordo strada. A quel punto è sceso, ma in un attimo si è accorto di essere stato seguito a breve distanza dallo stesso veicolo che aveva notato in Borgo Padova. Allarmato, l'imprenditore ha chiamato il 112. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto, vista la situazione, sono intervenuti immediatamente. L'uomo era fuori dall'auto mentre gli si stava avvicinando un giovane. Percependo l'imminente pericolo per la vittima, i militari dell'arma sono intervenuti bloccando contemporaneamente sia il giovane a piedi sia il complice che lo aspettava in auto, impedendone così la fuga. I due sono stati sottoposti a perquisizione. Addosso avevano due punte di trapano di diverse lunghezze, compatibili con il foro praticato sulla gomma. I due padovani, già conosciuti alla giustizia per fatti analoghi, sono stati arrestati in flagranza. E un'escalation di furti è in corso in tutto il Veneto, nella Marca in particolare, dove i ladri hanno tentato di entrare anche nella casa del sindaco di Follina, alcuni giorni fa, nell'abitazione della storica famiglia Goppion, in centro a Treviso. Uno sbocco sul sile che ha servito ai ladri per entrare in casa senza destare sospetti. Via Silvio Pelli con la villetta presa di mira, questa volta della famiglia Goppion, di proprietà di Silvia Goppion. Ladri che hanno agito al buio, nonostante fossero soltanto le sei, complice l'ora legale, entrati facilmente perché l'allarme non era inserito. Sono riusciti a portare via diversi oggetti in oro. Diverse ore dopo, la seconda visita scongiurata in una casa disabitata, grazie all'allarme entrato questa volta in azione. L'escalation di furti è confermata anche dal presidente dell'associazione Furti in corso, una rete di cittadini che annovera anche forze dell'ordine al suo interno. Non si parla di una o due bande, ma molte, molte bande organizzate, anche perché fanno a distanza di veramente pochi minuti anche vie, anche dello stesso comune, ma comunque abbastanza distanti. Quindi anche lì non è una banda solo. Arrivano in stagione, depredano tutti e tutto senza guardare nulla, nessuno, e poi se ne vanno sparendo nell'oblio. Con la barca d'assile o con la gente in casa, Demma parla di una nuova spregiudicatezza delle bande. Quest'anno è partita leggermente più in ritardo la situazione di furti e spero che non riprendano i giorni persi più avanti, perché purtroppo succede anche questo. Furti in corso, divenuto negli anni casa di risonanza per tutte le vittime di furti, aveva chiesto un incontro alle istituzioni, sollecitando la nascita di una collaborazione più concreta, un incontro in prefettura che non c'è mai stato. In questo momento, quando si sa che ci sono questi un paio di mesi, diciamo, massacranti a livello di furti, concentrare di più sull'attenzione, sull'anti, diciamo, rapina e antifurti, piuttosto che magari su altro. E ai cittadini? Denunciare sia i furti, ma anche i tentati furti, le tentate frazioni, perché questo fa sì che non andiamo nelle classifiche, diciamo, a favola, come dico sempre io, ma andiamo anche a ricevere degli organi in più di polizia e carabinieri quando c'è la riorganizzazione poi nel territorio. Aiutatemi a individuarlo. I nostri microfoni, l'appello di un 29enne di Mansuet che la notte di Halloween è stato aggredito a puni senza motivo da uno sconosciuto. Questa è la vicenda davvero inquietante. Eh sì, oggi ho ancora un po' un mal di testa, dolori al naso, speriamo passi il prima possibile. Ero in pista a ballo, ho preso tre pugni fortissimi e mi sono quasi accasciato a terra dal dolore. Uno sconosciuto che poi è subito scappato. Una serata da passare in allegria con gli amici si è trasformata in pochi secondi in un incubo per Fabio Toffanello quando uno sconosciuto gli ha rifilato tre pugni al volto mentre ballava ad una festa privata di Halloween in Villa Foscarini a Gorgo al Monticano. Tre pugni al volto senza un motivo da una persona mai vista prima il gesto vile e gli ha procurato una frattura al setto nasale. Per quale motivo questa persona ti ha picchiato? Non ne ho proprio idea, sinceramente. E invece sarebbe saperlo. Però non avevo idea del perché. Non era successo niente prima? No, non era successo assolutamente niente. Il 29enne in quel momento si trovava con un amico che lo ha assistito e portato all'ambulanza già presente nel piazzale della Villa. in ospedale lo hanno dimesso con 30 giorni di prognosi. Il tuo amico ha fatto a tempo a vedere qualcosa? Il mio amico sì, ha fatto a tempo a vedere qualcosa e lo hanno cercato, so che per un'ora, un'ora e mezza lo hanno cercato, diciamo, i bodyguard però non l'hanno trovato. Un metro e ottanta, capelli scuri con una maglietta bianca nessuno lo ha visto. Aiutatemi a trovarlo è l'appello di Fabio che nelle prossime ore spoggerà denuncia ai carabinieri. Se qualcuno ha qualche informazione gli prego di andare dai carabinieri e riferirgliela a loro. In futuro dovrà sottoporsi ad un'operazione chirurgica al setto nasale. Alcune ferite però saranno dure da rimarginare. Sì, ho anche pure dei disconosciuti adesso perché non si sa mai quello che può succedere. E a Morgano le fiamme gialle hanno sequestrato d'urgenza un laboratorio tessile in cui non si rispettavano da tempo le norme di sicurezza. L'intervento è volto a tutelare il mercato da operatori che agiscono scorrettamente. Laboratorio tessile di 300 metri quadrati di Morgano gestito da un imprenditore cinese posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Treviso che ha proceduto a denunciare il titolare per le condizioni in cui i cinque dipendenti venivano fatti lavorare. Niente impianto di ventilazione né uscite di sicurezza. Finestre oscurate per evitare che si notasse il lavoro notturno. Abbiamo trovato una situazione di assoluto degrado in quanto non erano rispettati i requisiti igienico-sanitari in materia di prevenzione incendi e inoltre i rifiuti, gli scarti tessili di lavorazione erano smaltiti di fatto in un box adiacente allo stabile adibito a discarica. Posti sigilli anche a 30 metri cubi di scarti tessili e a 21 macchinari per il confezionamento dei capi di abbigliamento commissionati anche da note aziende del territorio. Nel ricostruire le gestioni precedenti sono emerse nove differenti imprese che malgrado il giro d'affari annuale di circa 500 mila euro sono risultate insolventi con il fisco per un totale di 2 milioni e 600 mila euro. Le imprese dopo un periodo di vita di circa uno o due anni venivano sostituite da nuove imprese costituiti ad hoc che rilevavano il pacchetto clienti e fornitori, macchinari e di fatto si ponevano in prosecuzione con le precedenti ditte che interrompevano l'attività economica dopo che avevano maturato rilevanti debiti con l'amministrazione finanziaria. Dalla cronaca all'economia sono 20 milioni di euro che saranno messi a disposizione delle piccole e medie imprese perché investano nell'efficientamento energetico. Task Force di artigiani e mondo bancario contro Caro Bollette è frenata del tutto conseguente degli investimenti. Non dobbiamo aggiungere debito al debito ma in questo momento noi vogliamo aiutare gli artigiani ad affrontare le sfide che sono importanti di questo contesto che stiamo vivendo e lo possiamo fare solo con investimenti strutturali e mi riferisco principalmente ad investimenti legati all'efficientamento energetico. Un plafond di 20 milioni di euro da erogare a tassi agevolati e il supporto per accedere a contributi a fondo perduto. I tre mandamenti di Confartigianato fanno squadra con il mondo bancario per superare le difficoltà di accesso al credito. I numeri dicono che l'accensione di nuovi mutui sta già frenando. Il contesto attuale è dettato da un'inflazione a due cifre dai costi dell'energia che stanno aumentando e dall'aumento anche del costo del denaro. La dinamica dei tassi è totalmente cambiata dall'inizio dell'anno hanno comportato un rallentamento di quelle che sono le richieste da parte dei nostri clienti principalmente le piccole e medie imprese. Obiettivo dell'accordo sottoscritto in via Selvatico fornire nuovo ossigeno per pagare le bollette ma soprattutto per investire nell'efficientamento energetico così da abbattere i costi e rendere le imprese sempre più autonome. Questo è uno strumento credo che sia fondamentale e opportuno e arriva veramente al momento opportuno che è di supporto alle nostre aziende per questo tipo di attività di rinnovamento. Le imprese che hanno passato questi duri contraccolpi hanno una resilienza talmente grande che non hanno più paura di niente e glielo posso garantire. Fotovoltaico da installare sui tetti dei capannoni ma non solo e nel frattempo si risparmia anche sulla singola lampadina. Anche noi siamo tra virgolette delle aziende quindi anche noi all'interno dei nostri uffici stiamo decidendo anche come collocare diversamente le persone e eventualmente anche chiudere dei reparti per avere minore dispendio di energia. Ancora cronaca dal territorio subito dopo la pubblicità fra poco.